Abbiamo potuto studiare 30 imprenditrici e abbiamo raccolto il racconto della loro storia e di alcuni momenti specifici di efficacia professionale all'interno del loro lavoro. Quello che è emerso è che innanzitutto l'esercizio della leadership non è tanto questione di genere, ma è questione di possesso di alcune competenze e di esercizio di alcuni stili di leadership. In modo particolare queste nostre imprenditrici che abbiamo potuto analizzare si sono contraddistinte per il fatto di esprimere uno stile visionario, quindi avere la capacità di dare la rotta, dare la rotta all'interno delle loro organizzazioni e trasmettere questa rotta in modo efficace ai loro collaboratori. Ma contemporaneamente dare la rotta non basta, serve anche lavorare sulla squadra, lavorare sul team, lavorare sul clima. E quindi hanno saputo efficacemente lavorare sulla dimensione della loro squadra, comprendendone i bisogni, comprendendo le necessità del team e contemporaneamente preoccupandosi dello sviluppo dei loro collaboratori. Grazie.